bentornato amico mio se sei ancora qui a guardare i miei video vuol dire che sei un vero duro e i filmati che hai visto finora non ti hanno fatto alcun effetto ed è proprio per questo che ho deciso di portare dei filmati che spero ti facciano capire che anche i più coraggiosi a volte cedono prima di cominciare però voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notizie per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo cosa c'è di meglio di passare del tempo rilassandosi in un bell'albergo di lusso come il niggornest hotel nel quincy ops dimenticavo di dirti che l'hotel in questione è infestato da una strana entità che non solo spaventa praticamente tutti i turisti ma anche gli stessi dipendenti degli addetti alle pulizie lamentavano la sparizione di alcune attrezzature come scube spray per la polvere attrezzi vari all'inizio si è pensato ad una ragazzata o uno scherzo di qualcuno ma poi grazie ad alcune telecamere di sicurezza si è scoperto il vero colpevole dalle immagini si può notare un'ombra uscire dall'ascensore andare vicino al carrello delle attrezzature dell'addetto le pulizie e tornare nell'ascensore in frazioni di secondi di sicuro quell'essere non ha nulla di umano cosa strana l'ascensore ha le porte chiuse una domanda che mi sono posto e credo ve la farete anche voi dopo come fa quell'essere a rubare le attrezzature e portarsene via attraversando quell'ascensore e chiuso impossibile a meno che l'entità in questione non abbia la capacità di tramutare la materia in energia voi cosa ne pensate nel secondo video una donna afferma di essere posseduta da un demone molto potente la donna a questo punto decide di farsi riprendere da una telecamera circuito chiuso questo per dimostrare che ciò che dice è vero e questo è ciò che succede la donna a un certo punto incomincia a lievitare rimane sospesa in aria per alcuni secondi dopo di ciò piano piano torna nel letto nella sua posizione iniziale in questo ultimo video viene praticato un esorcismo ad una giovane donna per evitare reazioni pericolose da parte della donna alcune persone la bloccano sul letto tenendogli fermi le mani l'esorcismo comincia recitando diversi subito dopo viene portato un piatto con del cibo dentro insieme al cibo vengono portate anche due uova il primo uovo viene rotto esce un uovo normale il secondo uovo però prima di essere rotto viene sfregato sulla fronte sul braccio della donna dopo di ciò l'uovo viene rotto dall'uovo rotto fuoriesce uno strano liquido nero allo stesso tempo la donna si alza di scatto cosa spaventosa gli occhi della donna sono completamente neri subito dopo la donna si gira prende la tazza con il liquido nero uscito dall'uovo e lo ingoia dopo di ciò la donna si straia di nuovo e viene presa da spasmi e convulsioni da queste immagini si può solo immaginare cosa potrebbe fare un demone a un essere umano il video finisce qui e noi come il solito ragazzi ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao